Chiesa Madre di Santeramo Chiesa Madre di Santeramo siamo con il nostro arciprete Don Michele, ben ritrovato in questo momento più bello, quello del momento più bello dell'anno, il Natale, che è veramente alle porte. Quindi ci vediamo per un suo pensiero, so che ci tiene molto a formulare gli auguri a tutta la comunità. E ci troviamo in questo luogo suggestivo, non solo perché abbiamo il presepe come sfondo di questo nostro augurio, ma un augurio che parte anche dal cuore della cristianità della nostra comunità di Santeramo, dalla Chiesa Madre, perché vuole esercitare la Chiesa proprio questa maternità nei confronti anche di tutta la comunità. Stiamo uscendo, sembra quasi definitivamente, da quella pandemia che ci ha rinchiusi in casa, che ci ha dato la possibilità comunque anche di riscoprire quella preghiera casalinga, quella chiesa domestica. E ci ritroviamo in questi giorni come comunità, ragazzi e quindi anche famiglie, insieme a tutta la comunità, per celebrare il Cristo che nasce. Però al di là di quel trasporto emotivo che può essere il Natale, perché un bambino che nasce in condizione di povertà fa un po' tenerezza, un po' a tutti, ma vuole essere più che altro da parte di Dio anche una denuncia. Quella denuncia dinanzi a un Natale che negli ultimi anni ha visto solamente tutto un fenomeno commerciale, consumistico e, permettetemi il termine, un po' sfrattando il vero protagonista di questa esperienza. L'augurio che può nascere da un sacerdote, quindi anche dal parroco della Chiesa Madre, può essere proprio quell'augurio che questo Natale comunque possa far nascere nel cuore di ciascuno di noi, non solo un sentimento buonista, ma proprio tutto ciò che nasce dall'immagine di un bambino, la semplicità, allo stesso tempo quindi anche l'innocenza, il sentirsi anche indifesi, sentirsi deboli, perché Cristo ha scelto ciò che è fragile per confondere i potenti, ciò che nel mondo cerca di essere per confondere praticamente quelli che si credono di essere qualcuno. Il Natale quindi è la festa del ribaltamento, è la festa anche della rivoluzione cristiana, utilizzando le parole proprio di Papa Francesco, quella rivoluzione che ci porta comunque anche a vivere il paradosso della cristianità, Cristo che parte dagli ultimi, dai poveri, che parte proprio dagli emarginati per manifestare la sua gloria. Don Michele, la preparazione, c'è stata la novena, le nove lampade? Sì, stiamo vivendo, ormai siamo giunti al termine, ogni mattina alle ore 6 ci ritroviamo qui in chiesa per il primo appuntamento di novena, perché poi c'è alle 17 con i ragazzi e alle 19 e 15. E' la mia seconda esperienza della novena alle 6 del mattino, è confermata perché l'afflusso di uomini e donne, anche diversi giovani, è veramente straordinario. Ancora questa mattina la chiesa era piena di persone che comunque aspettano forse da un anno all'altro, gente che forse non siamo nemmeno abituati a vedere nelle nostre assemblee domenicali, che non siamo forse abituati a vedere nei nostri circuiti, ecco, degli addetti al lavoro. E quindi è un'occasione, una possibilità essere accompagnati al Natale per questi nove giorni. Don Michele, l'augurio che le formula per il Santo Natale, ma anche per l'Anno Nuovo, a tutti i nostri telespettatori. Sì, non potrei fare altro che utilizzare le parole di Papa Francesco, no? E quindi perché questo Natale non è solamente una nascita, divenne una rinascita, una rinascita per percorrere nuovi sentiri di fraternità e di familiarità. Questi nuovi sentiri che siamo chiamati a percorrerli insieme, questi nuovi sentiri che li vogliamo vivere comunque come comunità cristiana. Grazie a voi, auguri.